Una bellissima rubrica che noi seguiamo praticamente quotidianamente Bravi Assolutamente, non potremmo fare in maniera diversa Che è appunto una rubrica, ecco la mostro agli amici a casa Una rubrica del fatto quotidiano Che è, e lo posso dire senza tema di smentita L'unico quotidiano italiano Italiano però, attenzione A occuparsi in maniera costante con una bellissima rubrica Da diversi anni di italiani all'estero E di appunto italianità all'estero Di ragazzi che ce l'hanno fatta fuori dall'Italia E quindi raccontando le storie appunto di questi cosiddetti expat Allora, io do il benvenuto La benvenuta a Italian Heritage A Eleonora Bianchini Buonasera Eleonora, grazie Buonasera, grazie mille per l'invito Allora, Eleonora Tu sei appunto al fatto quotidiano Adesso, esatto Sei proprio in redazione Perfetto, che meraviglia Un'incursione di lusso come si suol dire Esatto Ne abbiamo parlato tante volte Adesso appunto siamo proprio in vis-a-vis Come si suol dire Siamo proprio da voi Un'incursione Ecco, parliamo un po' di questa meravigliosa rubrica Che intanto io faccio passare anche qualche articolo In sovraimpressione Appunto durante la nostra chiacchierata Una rubrica che Davvero racconta Tantissime storie Di ragazze e ragazze Ma non solo Anche persone adulte Anche in lago gli anni Che però riescono a trovare una loro dimensione E spesso Diciamo c'è un coro unanime Possiamo dire Italia ci manchi Era anche il titolo di un articolo Ma purtroppo Noi fuori Purtroppo tra virgolette Fuori Riusciamo a cavarcela Mentre invece Tornando non avremmo Tra virgolette Speranza Ecco Partiamo proprio da questo Tipo di considerazione Eleonora Sì Guarda Questo in realtà Che hai ricordato È esattamente Il fior rouge Di tutte le storie Pressoché tutte le storie Perché Comunque l'Italia manca Manca tanto Mancano gli affetti Mancano la famiglia Che si è lasciata a casa Così come gli amici Anche l'Italia L'Italia nei suoi paesaggi Nella sua bellezza Però allo stesso tempo Bisogna campare No? Sì Quindi bisogna trovare Anche le condizioni di lavoro Che siano all'altezza Ad esempio Dei propri studi Dei propri sogni Anche delle proprie aspettative Quindi purtroppo Tante volte Quello che ci dicono I nostri expat Che abbiamo intervistato Appunto in tutti questi anni Sono tanti anni Che seguiamo Le storie degli italiani All'estero Su Cervelli Su Cervelli in fuga Sul fatto quotidiano Punto it Ci dicono che Appunto Il lavoro purtroppo È fuori E tornare è dura È durissima Perché le stesse condizioni Non le riescono A ricreare a casa Mancherebbe ad esempio Uno stipendio Che ti possa garantire Di arrivare Fino a fine mese Manca Quella meritocrazia Che ti fa avanzare Nella carriera Mancano le possibilità Di carriera Magari C'è molta più staticità E anche questo È un elemento Che viene Ricordato molto spesso Quindi I cervelli Tanti cervelli Sbocciano All'estero No? Poi Noi Raffichiamo sotto Questo nome Di cervelli in fuga In realtà Anche persone Che non sono Strettamente cervelli Intendo dire Magari non sono Nei ricercatori Universitari Perché noi Oppure scienziati Insomma Abbiamo un'accezione Molto ampia Del nome Cervelli in fuga Intendiamo Appunto Riferirci a tutti Quegli italiani Che Anche facendo lavori Può capitare Manuali Apprendono attività Oppure Facendo Ingegneri Gli architetti Gli informatici Decidono Che Purtroppo È il momento Di andarsene via E a volte Se ne vanno via Malincuore Ma spesso Se ne vanno via Anche con una stanchezza Molto profonda Perché magari Ne hanno provate Un po' tutte Per rimanere Però Non c'è stata possibilità E prevale la frustrazione E una volta Che arrivano all'estero In tanti ci raccontano Che pian piano Lavorando sodo Dandosi da fare Ce l'hanno fatta E quindi Diciamo che c'è un cambio Di paradigma totale Di qualità di vita Anche no Ci sono difficoltà diverse Questo è vero Sì Però c'è Nella maggior parte Delle storie È un riconoscimento Professionale E anche la possibilità Di provarci No Di andare verso I propri sogni Le proprie passioni Di farle diventare Un lavoro E comunque Di sentirsi anche valorizzati Responsabilizzati Riconosciuti In quello che si fa E questo direi Che siano gli elementi Che emergono In tutte queste storie Che sono bellissime Perché sono davvero Una diversa dall'altra Io lo seguo con Mi piace tantissimo Continuare a seguirli Dopo tanti anni Perché comunque C'è anche Un desiderio forte Di condividere La propria esperienza No E quindi è molto bello Per noi Che siamo In Italia E leggere Leggere Quest'esperienza Cosa è successo Perché se n'è andato In che modo Ce l'ha fatta Ha fatto un colloquio Per Skype E l'hanno preso E ha preso un volo Il giorno dopo E se n'è andato A lavorare a Londra O a Berlino O in qualche altra città In giro per il mondo Insomma Ci aprono anche la mente Su quello che possono essere Le possibilità All'estero Infatti Diciamoci anche questo Eleonora Spesso Ci viene anche un po' E lo dico Tra virgolette Anche un po' a malincuore Da sognare Guardando queste storie Perché dici Ah ma allora è possibile Allora Un mondo in cui Se vali Perché poi noi italiani Valiamo E lo diciamo Non con presunzione Ecco un mondo Un mondo dove Se vali Effettivamente Riesci Forse a fare qualcosa In più Perché vivere all'estero Nella difficoltà Ti dà la possibilità Di tirare fuori Ancora di più Rispetto a Ecco a non adagiarti Possiamo Potremmo dire No? Esatto A non adagiarti Ma allo stesso tempo Non a faticare Senza vedere un obiettivo Senza vedere un traguardo E quindi C'è una grande spinta Emotiva E propositiva Anche nella Nella fatica Di queste persone Perché vedono Che comunque Le cose cambiano E questo è uno Un fattore Molto importante Magari in Italia Sentiamo storie Di chi Magari facendo Straordinari Facendo Tante ore di lavoro E contribuendo Nel miglior modo possibile Però rimaneva In una sorta di Di sabbie mobili Insomma di pantano Senza poter andare avanti E progredire O fare qualche passo In più Mentre fuori È come se venissero Spesso liberate Delle energie E quindi possono essere Liberate E danno dei frutti Positivi Per la persona Che le libera E voglio ricordare Una cosa molto importante Che appunto Osservo Con grande curiosità Sotto i nostri pezzi Ci sono tantissimi commenti Molte volte Ci sono commenti Rosiconi Proprio Di persone Che dicono Ad esempio Ve ne siete andati Noi siamo rimasti Qua da soli Facile andarsene Quando qua Le cose si mettono Si mettono male Oppure difficile Bisogna lottare E io dico Provateci anche voi Allora Cosa aspettate Se sei una persona Si può La che può essere Inghilterra Stati Uniti Possono essere Mille posti nel mondo Fare mille cose Diverse tra di loro Si può trovare qualcosa Che dà senso Anche alle nostre passioni Magari E dà senso Che poi gli italiani Gli italiani in Italia Vorrebbero restarci Magari vai a fare Un'esperienza all'estero Però poi Spesso sei costretto Per migliorare La tua condizione lavorativa Magari fuori trovi Ed è anche vera una cosa All'estero C'è una All'estero Io parlo di estero Genericamente inteso Perché poi In Italia Siamo particolarmente Sensibili alla nostra terra Siamo particolarmente Legati come magari Non lo sono Non che non l'amino Ma ecco Non c'è questo Stesso legame Con tantissime persone Estere Inglesi Francesi Spagnole Mi è capitato di Con cui mi è capitato Di avere a che fare Ecco non c'è questo Questo cordone Così forte Quindi Noi abbiamo una difficoltà In più forse Ed è brutto poi vedere Che magari I tuoi stessi paesani Invece di provare orgoglio Perché rappresenti L'Italia all'estero Magari ti debbano Come dire Senza motivo Anche un po' Invidiare E criticare C'è stato anche qualche Vabbè Non vogliamo fare polemiche Però Ci sono stati anche Esponenti politici Che hanno proprio Si sono espressi apertamente In questo senso Secondo me Sbagliando proprio E della grossa Per il discorso Che stavamo facendo Sono d'accordissimo Sono d'accordo Che molte storie Vadano a Sollecitare Una certa Invidia sociale Che comunque Di questi tempi È abbastanza Palpabile Possiamo dire No Però io mi dico sempre Anche forse perché sono Voglio essere ottimista Che c'è anche Una marea Di Ci sono Una marea Di persone Che leggono Queste storie Mi riferisco appunto Al contesto Anche del sito In cui lavoro io Per cui dove vedi Magari commenti In tempo reale E dico C'è una marea Di persone silenziose Che leggono la storia E non commentano In senso negativo Magari non commentano Non dicono nulla Si rendono semplicemente conto Di quale può essere Un'esperienza E purtroppo Io credo che A determinare Questa Queste reazioni No Anche di Non dico di scherno Però di fastidio Nei confronti Di connazionali Che se ne sono andati fuori Sia davvero Una sorta di invidia Di non fiducia Nelle proprie capacità Magari O del fatto Di essere affossati In una quotidianità Dove non Non c'è via d'uscita Ecco Per cui si sfogano Forse degli psicologi Saprebbero spiegarcelo Molto meglio Però Io credo che Il meccanismo Sia esattamente quello Tra l'altro Eleonora Nel corso Di questo Primo anno Di trasmissione Anzi Neanche anno In questi primi 8-9 mesi Abbiamo incontrato Anche Dei Psicologi Che Appunto Cercano Di Supportare Perché c'è Proprio Una vera e propria Branca Della psicologia Per chi E' Spatria Perché Chiaramente abbiamo Ci siamo risi conto Che effettivamente Crea delle problematiche Interiori Veramente Enormi Magari ecco Chi lascia la famiglia Piuttosto che gli amici Piuttosto che una situazione Delicata a casa Ecco In alcuni casi In alcuni casi il cervello Non c'è Lo dico veramente Stavolta con molta Franchezza E anche Mestizia Però insomma Tante Eleonora Io volevo chiederti Come nascono Ecco La domanda Che faccio da Diciamo da collega Come nascono Le vostre storie Come Arrivano Sicuramente vi arriveranno In redazione E-mail E segnalazioni No? Sì Ci arrivano tante Segnalazioni E io magari Le raccolgo Sulla pagina Dedicata Di Cervelle in Fuga Che vi consiglio Di mettete un like Il fatto quotidiano Cervelle in Fuga Dove pubblichiamo Appunto Tutte le storie Che vengono Pubblicate sul sito E in più Potete anche Mandare dei messaggi Io cerco Di leggerli Sempre tutti E di solito Magari Perdo qualche giorno Poi cerco Di recuperare in massa E da lì Appunto Cerchiamo di selezionare Cerco di selezionare Delle storie Che arrivano in questo modo Arrivano anche tramite Ad esempio Delle segnalazioni Direttamente Dei nostri collaboratori Sì Quindi diciamo È un mix Di cose che si intrecciano Oppure magari Non lo so Anche leggendo articoli Soprattutto scientifici Magari vediamo degli autori Che sono italiani Allora cerchiamo di capire Se è una storia Che per noi diventa interessante Perché Le storie sono tutte interessanti Quello che vogliamo fare Nella sezione È cercare di dare Una panoramica Più ampia possibile E quindi Cercare Tra virgolette Lo dico dal punto di vista giornalistico Di creare Meno duplicati possibili Di storie Di cercare sempre Una spigolatura diversa Sempre Un accento diverso Un paese diverso O comunque Delle nuanze Diciamo Delle sfumature Che creino Che rendono quella storia Davvero speciale Anche rispetto All'archivio di storie Che abbiamo Questo perché È una rubrica Che va avanti Da tantissimi anni Ed è stupefacente Anche il fatto Che vada avanti Con dei numeri Molto molto importanti Perché le storie Vengono tanto lette Tanto condivise E non solo Nella giornata Ad esempio O nella settimana Della pubblicazione Ma hanno una vita Molto più lunga Perché magari Poi vengono ripescate Sono online Per cui le persone Comunque le vanno a cercare E tenere in vita Una rubrica Diciamo una sezione Del sito In realtà Per tanti anni Significa anche Cercare di rinnovarla Sempre Con delle storie Delle spigolature diverse Quindi sì Riceviamo delle Delle segnalazioni Ma le cerchiamo anche noi Perfetto Quindi comunque È un doppio binario Diciamo così Anche triplo Anche quattroplo Tantissimi binari Poi Eleonora È bellissimo Anche accorgersi Di quanto orgoglio E quanto amore Traspiri Dalle parole Anche chi dice Io ecco Mi capitava Prima di leggere Un articolo Di una dichiarazione Di uno degli expat Non mi manca l'Italia Perché io ce l'ho a morte Con lei Anche questa Fondamentalmente È una dichiarazione D'amore Perché ce l'hai a morte Perché appunto Vorresti starci Ma non riesci Quindi c'è tanta passione Tanta Come dire Proprio tanta voglia Di essere E dichiararsi italiani All'estero E quindi dovremmo essere Veramente orgogliosi Dei tanti nostri Dei tanti nostri Connazionali Espatriati Assolutamente Che Diciamo Io empaticamente Mi sento sempre Molto vicina Loro Ho una predisposizione Proprio Personale A questo tipo Di storia Anche perché Anche sono stata All'estero Passato Trascorso dei periodi Non sono dovuta Emigrare Insomma Però Capisco Bene La realtà Insomma Che possono Affrontare Che possono Vivere E anche Il senso Di delusione Perché Quello è A volte Devastante Insomma Anche andarsene Perché in qualche modo Il tuo paese Ti ha cacciato Perché non ti dà La possibilità Di rimanere È un paese Che immagino Anche dal punto Di vista psicologico Negli anni Possa assumere Varie forme Varie spigolature Però È un aspetto Un aspetto Importante Insomma È come vedersi Esclusi anche Dal proprio paese Perché tu Ce l'hai provato In mille modi Ma non ce l'hai fatta E soprattutto Magari se vieni Dalle Parti del nostro paese Che non sono Sicuramente Il nord Il centro nord Ma magari sono più a sud Dove Le difficoltà sono maggiori Anche a fronte Di un'ottima preparazione Universitaria Scolastica Professionale Insomma Ci sono delle zone Del paese Che davvero Da queste storie Emerge con molta forza Sono in grandi difficoltà Però abbiamo anche Delle Diciamo Negli anni Abbiamo raccolto Anche le storie Di persone Che Non sono più giovanissime Non sono più al primo lavoro Sono persone Che magari Sono rimaste Rimaste disoccupate Intorno Ai 60 anni Ai 50 anni Insomma Quando comunque Andare in pensione Aspettare la pensione Diciamo Era un Significava rimanere Per un periodo Troppo lungo Senza entrate economiche Quindi era Davvero una grande Difficoltà Quindi persone Che se ne sono andate Anche Da grandi Con una famiglia Carico Con tutte le difficoltà Del caso E anche con Diciamo Non dico il pessimismo Che si porta A un'età del genere Però sicuramente Lo sappiamo tutti Più cresciamo Più la nostra propensione Al rischio Magari È un po' più difficile Da trovare E quindi Insomma Anche queste persone Tanto di cappello E tanti in bocca al lupo Perché La cosa bella È che Diciamo che Ne abbiamo raccontate Tante di queste storie Di persone Che ce l'hanno fatta Che fuori Hanno riacquistato Anche autostima Fidoci di se stessi Ma questo è bellissimo È davvero bellissimo Però Abbiamo tante Tante fasce Di età Che se ne vanno Ed è davvero Un peccato Anche che a livello politico Finora Non si è stato percepito Come un problema Prioritario Cioè Il nostro problema Non è Che se ne vadano Ma è che non entra nessuno Esatto Cioè non entra nessuno Né di qualificato Né di professionalmente Diciamo Adeguato Per quello che potrebbe essere Diciamo Il bene del nostro paese Cioè È brain drain Tecnicamente si chiama così Poi voi lo saprete molto bene Perché vi occupate di questo Vi occupate di questo tema Però è proprio Un'aridità Cioè Andiamo verso Un risucchiamento di risorse Che se ne vanno fuori Ma dentro non entra nessuno Esatto C'è una circolazione Cioè Tanti italiani Che se ne vanno Dicono Sì ma La cosa È naturale Andarsene fuori No È vero È naturale Andarsene fuori Non è naturale Dovere Andare via Perché In Italia Non ci puoi stare Esatto E questo è Il cortocircuito E questa è La difficoltà Che altri paesi Non hanno Perché altri paesi Sono interessati A stimolare Uno scambio Esatto Scambio Esatto Anche quello Anche appunto Sì Vero Verissimo Eleonora Guarda io Esatto E anche i piccoli imprenditori Sì Che se ne vanno fuori E per aprire delle attività Perché fuori Possono respirare un po' di più Esatto Esatto C'è anche tutto l'aspetto imprenditoriale Che è molto interessante Perché magari fuori Puoi partire rapidamente Capisci immediatamente Cosa vuole da te La pubblica amministrazione Non hai costi Per cui devi fare dei mutui Per aprire un'attività E puoi andare Molto più sereno Esatto Molto più rapido Quindi Insomma Gli italiani all'estero Hanno tanto da dirci Tanto raccontarci E Ancora di più Secondo me Dovrebbero essere Molto ascoltati Dai politici Esattamente Potrebbero avere tantissime idee Potrebbero dire Raccontare A quali condizioni E come creare Quelle condizioni Cercare di capire Come crearle Per ritornare E creare ricchezza Anche nel nostro paese Creare occupazione Insomma Ci dovrebbe essere Un interesse A dire Cosa state facendola Perché ve ne siete andati Esattamente Vogliamo creare le condizioni Per tornare qua Invece Finora abbiamo sentito Soltanto persone Che dicevano Vabbè Quelli se ne vanno Tanto non se ne vanno i migliori Primo Secondo Ma saranno un po' Ciusi No Magari saranno un po' Quelli che pretendono Di vedere fare Esatto E quindi se ne vanno via E purtroppo così Siamo noi Quelli che Ci tagliamo fuori Da un contesto Che ha vedute Molto più ampie Esattamente Eleonora La discussione Mi auguro che possa proseguire Nel senso Teniamoci in contatto Perché Ce ne sono veramente Milioni di cose Da dire Purtroppo per tempi televisivi Devo Devo chiudere il collegamento Ma Naturalmente Ribadisco Teniamoci in contatto E io Voglio ringraziare Te e tutta la redazione Per il lavoro Meraviglioso Che fate E credo che Dovrebbero ringraziarvi In tanti Appunto per il discorso Che facevi Anche perché Potrebbe essere Il discorso del dialogo E dell'ascoltare Cosa che in Italia Non si fa più Potrebbe essere Anche foriero Di Un supporto Visto che l'Italia Sta andando a picco È inutile che ce lo nascondiamo Possiamo solo sperare Noi ogni anno Che passa Diciamo sempre Speriamo che si vada meglio E invece Più che sperare Bisognerebbe agire Bisognerebbe anche vedere Oltre il proprio naso Laddove le cose Sembrano funzionare Anche Ecco appunto Secondo le parole Di italiani Che vanno via E che quindi Ce l'hanno fatta Perché ce l'hai fatta Come ce l'hai fatta Perché non proviamo a Creare le condizioni Come dicevi giustamente tu Eleonora Magari un po' meno Ponevica politica Esatto Esattamente Un po' più di ciccia Perché loro ne prendono da vendere Esattamente Amici di Patrimonio Italiano TV Io voglio ringraziare Veramente di cuore La collega Eleonora Bianchini E la redazione Del Fatto Quotidiano Per questa Meravigliosa rubrica Che ci tocca molto da vicino Naturalmente Per le tematiche trattate Che appunto Cervelli in fuga Su Il Fatto Quotidiano Eleonora Grazie mille Grazie mille a voi Ti lascio il microfono Per un saluto Agli amici di Patrimonio Italiano TV Grazie Io vi saluto tutti Vi ringrazio Per aver Sentito questa intervista Se volete raccontarci La vostra storia Scrivete a FattoCervelli Chiocciola Gmail.com Vi rispondo io Grazie Perfetto Eleonora Bianchini Dalla redazione Del Fatto Quotidiano Grazie mille Eleonora E buona serata Ciao Buona serata Ciao 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 Ciao